Ciao a tutti e benvenuti al Bresciera Podcast, il primo podcast interattivo per imparare l'inglese. L'ospite di oggi è abituata a intervistare, è abituata a intervistare coaches, good players, ma questa volta sarà lei ad essere intervistata, bordocampista, giornalista sportiva. Ladies and gentlemen, Giulia Cicchine. Ciao a tutti, grazie mille Samo per l'invito. Mi piace questa cosa del good player perché insomma mi sento good player anch'io o no? Assolutamente, sì sì, altro che altro che. Grazie per aver accettato l'invito, è un piacere averti qua con noi. Come i nostri ospiti di solito sanno prima di venire alle puntate, come la nostra audience ormai avrà familiarizzato con il formato del podcast, noi cominciamo questa puntata subito in inglese proprio per riscaldarci per bene. Quindi, can we start? Yeah, we can. Okay, because I know you're very good at English and we're gonna get there. Okay, I'm ready. Okay, so since the whole interview basically is gonna rotate around what you do in your life and how you integrated English in your everyday life, can you tell us a bit more information about what your job entails? Okay, so I'm not that ready anymore, but yes, I'm a sport journalist and since he said I'm in love with basketball, I'm a basketball sport journalist. So, as most of you may know, I have to interview players and I have to just deal with basketball things in English. For sure you have to just speak in English with everyone, you just have to do it with athletes and something like that. So, that's what I do. Yeah, so you're not like, let's say, shy to interview these people that can have this sort of charisma. You know, I imagine you interviewing big players and big sportsmen and sportswomen as well and being at the Olympics, I mean, that in itself is an experience that, I mean, it's unforgettable. Do you want to tell us more about this memorable event that you went through? Yes, it was probably, without probably, it was the best thing that could ever happen in your career when you are a journalist. Right. And you said that you cannot be shy and yes, I'm not shy, but the only moment in which I was like, Okay, now what I'm going to ask to that person, that person was Simone Biles, which is one of the most decorated gymnasts in the whole world. And as I said before, I'm not a gymnastic journalist. So, I was there thinking, okay, I don't know nothing about gymnastics. So, okay, let's just understand, what does she do? I don't know, nothing, but I have to study. Okay, let's study. Then, what did she do? What happened? She won the silver medal. Okay, that's great. She's a gymnast. She won the silver medal. She's one of the most decorated. Now, let's go. Let's go for the interview. And I was there. Yeah, you are Simone Biles. And yeah, you won the silver medal. Yeah, 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 yeah. So, I was more. That's what happened in the Intergo Olympics. So, what you're saying is that basically behind an interview that might seem simple at the eyes of other people that are watching you while you do that, it requires a certain level of preparation. And yeah, it's really important to let people understand that this facade of your job, let's say, the preparation part. And I can relate on that. I'm not comparing the two professions. But as a podcaster, I recently started this, but I'm getting the hang of it, let's say. I prepare every episode and I try to be as informed as possible about the person that I'm interviewing. So, I respect that. And I guess it's a big responsibility. Thank you very much. You said that as a journalist, you got to interview a lot of important players and coaches. You now mentioned the famous gymnast. What about other players and coaches that are more into your field of study, let's say, which is basketball? What kind of players did you have the chance to interview? The first name that I want to tell you is Luka Doncic, because I had the chance to interview him. And in the same day that I interviewed him, I got the chance to interview Zion Williamson. Wow. I wish I could meet these guys one day. They're so cool. They really are. They're so cute. Zion is a very cool guy. And this is for the NBA part. Then I had the chance to interview even Gianni Santetokounmpo, because he was here in Milan for the Eurobasket in 2022. Okay. Next time you call me, okay? Let's keep in touch. And yes, I had the chance to meet some of those players while the Eurobasket was here in Milan last year. And then working for the Italian National Championship and the Euroleague and the Eurocup a few years ago, I had the chance to interview players like Milos Teodosic. Wow. Yeah, I love him. Toco Schenghelia, and Sergio Rodriguez, Focando Campazzo, Luis Scola. Okay. From all over the world, basically. Yes. So you mentioned like five countries in like eight players that you mentioned. You know, there was Argentina there. There was Spain. There was Serbia. There was the United States. So a lot of countries. Yes. Yes. Coming from all over the world. I mean, amazing. Amazing. And now that you are at our podcast, when we first got in touch, let's say, you told me, you know, people actually tell me that I have a very good accent, that I have a very good English. And now I can confirm that. How come? How do you have such a very, let's call it authentic, even if I don't necessarily agree with the word authentic, because it kind of connects with the native speaker ideology. But I do like the fact that you really sound like a native speaker. Can you tell us how you did that? First of all, where am I from? Okay. Yeah, that's a good point. That's a good point. Where am I from? Am I from New York? Am I from Los Angeles? No, I'm from Marque. Marque. And I'll tell you without the authentic accent. Yeah. But yes, now I'll tell you, I'll say a thing that I know that you, that you love it because my motto is if you cannot go to UCLA, let UCLA come to you. Yeah, exactly. UCLA, for those of you who do not know, is a famous university in the United States. Where exactly? Yeah, exactly. So, she's got, you have a sort of dream to go there? Sure. Yeah, okay. It's something like the American dream because when you go to the United States and maybe you can attend to some university course, in particular in UCLA, it means that you are, you're there because, sure, you want to study something in UCLA, but you're a basketball, you can be a basketball player too. So, everyone dreaming of going to study abroad, maybe in the United States, everyone from Italy will dream to go to UCLA. So, maybe in some university from the Ivy League, but it's so different and it's not here the moment to just talk about university in the United States. But let's say, yes, my dream was to study in UCLA, but as I said before, I started in a university of Macerata. Yeah, that's great. That's another thing. So, yes, everyone, while I just do my job, they just ask me where I started. And, yes, I started in the University of Macerata. So, where did I just took this accent, this pronunciation? I never said it in English, so for me, it just would be difficult to say it, but my father is a journalist. Right. He's a basketball journalist, but he just can't speak Italian. So, and he follows basketball too. And when I was younger, he used to follow one of the local team in Marque region, and there were American players. But as I said before, he cannot speak English. So, when I was younger and I used to study in a linguistic school. You studied linguistics? Yeah. Okay. Yeah, but all English and French. Okay. And I don't remember nothing. Oh. French. Okay. But I'm going to study French too for next Paris Olympics. I can do it. And I remember that my father used to ask me, but please help me with English because I don't know nothing about them. I don't know nothing. I don't know how to interview players. And I was like, okay, dad, I can help. And that's how I started. But I was 12, 13. You started pretty early. And now I'm 32. So, yes, I started early. Bunch of experience. When I first heard your motto, I was like, oh, there's a pattern then between your motto and my motto, which is if you cannot go abroad, bring abroad to you, you know? And then you very specifically said UCLA instead of abroad. And I was like, wow. So, we are like-minded. This is going to sound like a very cool interview for sure. And now that I want to move on to the more didactic part and ask you about how you got to this level of English. So, we understood how you started and when you started mostly, 12 years old, because of your father, kind of stimuli. But now let's speak in Italian and let's try and understand where this English comes from. Quindi, ragazzi, avete sentito parlare Giulia? Secondo me è un accento meraviglioso. Secondo me è molto American, direi. Però Giulia non è mai stata fondamentalmente tanto tempo in questi territori anglofoni, United States. È stata soltanto quest'anno, mi sembra, a New York. E ha trascorso soltanto 24 ore a Londra, principalmente nell'aeroporto di Ether. Quindi diciamo che il suo inglese non si sa da dove venga fuori. Ce lo dirà direttamente lei e ci farà capire come ha raggiunto questo livello di fluency. Raccoterò una storiella che magari farà un po' ridere. Però al di là del fatto che veramente seguivo mio padre e quindi soprattutto per imparare il lessico cestistico ho dovuto magari seguire, anche su, vabbè non posso fare i nomi, però insomma su piattaforme che permettono di vedere dei video, potevo seguire come in America si facevano le interviste, quali erano i termini giusti da poter utilizzare. All'inizio io dicevo delle castronerie clamorose, ma perché penso che sia normale, soprattutto a 12-13 anni, quando non puoi nemmeno immaginare che esista un mondo così grande del giornalismo in America e magari ovviamente anche in altre parti del mondo. Quindi ho imparato lì le parole corrette, poi l'esercizio, quindi intervistando, facendo, continuando a fare quello che insomma era per me solamente aiutare mio padre, chi ci pensava che a 12 anni potesse diventare un lavoro per me. E invece poi lo è stato. E per migliorarlo ho fatto una cosa che si può fare tranquillamente anche adesso, per quello dicevamo Ring Abroad, perché praticamente mi guardavo i film in lingua. Ok. E 12 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa non era così facile come adesso. Non stavo per dire, cioè era difficile trovare film in streaming con anche i sottotitoli in lingua o trovare comunque materiale autentico nel web. Esatto, era molto difficile. Infatti, vabbè, tanto ormai qua siamo in clima familiare, certe volte venivano fuori delle cose, quando tu cercavi dei film in inglese, venivano fuori cose che non erano proprio, insomma, didattiche per quello che ti serviva. E io ho imparato comunque così, cercando in qualche modo di riprendere quel film che in qualche modo avevo già visto in italiano o con i sottotitoli, in particolar modo le serie tv, perché comunque avevano un filo conduttore e quindi dovevi per forza stare attento a quello che veniva detto e come veniva detto. Sì. E poi un'altra cosa, per quello dicevo una storiella divertente, che per fortuna non mi appartiene più, è che io nella mia vita precedente, perché a 12 anni non mi interessava, lo facevo per aiutare mio padre? Perché io volevo fare la cantante, volevo fare l'interprete. Ok. E quindi mi prendevo i testi delle canzoni e volevo proprio capire quello che dicevano per interpretarle nel miglior modo possibile. Certo. E quello, non dovete fare i cantanti voi, nel caso comunque potete farlo, però in quel modo lì impari veramente tanto, perché vai a capire perché si dice così, perché così e non cosa, e quindi... La curiosità, diciamo, ti guidava, il tuo spirito guida per analizzare queste canzoni. Cioè tu hai dato già adesso due delle tecniche più pop, diciamo, per imparare l'inglese nel ventunesimo secolo, che sono la song analysis, quindi analizzare la canzone che ascolti per anche il piacere di capirne realmente il senso, quello che dici. Per questo dico sempre ai miei alunni, alle persone in generale che mi seguono, siate curiosi. Ed è uscito molte volte questo concetto in anche puntate precedenti del Bruchette Podcast, ma è un concetto che non mi stancherò mai di ripetere. La curiosità è il motore guida che un po' ci deve portare avanti in questo mondo. E tu, come possiamo vedere tutti, hai utilizzato la curiosità a tuo vantaggio e sei riuscita a ottenere livelli incredibili, senza necessariamente aver avuto tutta questa influenza, diciamo, nativa. Quindi il messaggio importante che qua vorrei passasse, e parlo direttamente con l'audience, è non avete scuse, non c'è la necessità di fare eccessivi percorsi immersivi o andare all'estero per imparare l'inglese, perché a parte che nel ventunesimo secolo c'è internet e puoi veramente portare UCLA or abroad to you. E poi ci vuole appunto la forza di volontà di poterlo fare. Giulia non aveva questi mezzi, non almeno alla portata che noi abbiamo e nonostante ciò è riuscita a trasformare questa curiosità in realtà e a parlare inglese come lo parla adesso. Quindi nulla è impossibile, si può fare e non ci sono scuse. Penso che questo sia il messaggio. Addirittura. Eh sì, un po' sì. Dai. E smorziamo questo clima di diciamo nostalgia, malinconia possiamo dire e partiamo con il quiz time. L'audience della Bruxera Podcast lo sa, aspetta, spero questo momento durante la puntata quando noi facciamo un quiz all'ospite alla quale l'audience è invitata a partecipare. Ci può scrivere la risposta sotto nei commenti prima che appunto salga per gli ascoltatori di YouTube il pop-up, il banner con il quiz e per gli ascoltatori di Spotify state attenti perché non avete appunto l'impatto visivo. Ti faccio questo quiz che è un po' inerente al tuo mondo. Quindi al mondo della pallacanestro. Se vuoi direttamente, se vuoi indirettamente lo vedrai dalla domanda che ti faccio. Mi sto proprio qua eh. No, 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 serenissima. Quali tra questi significati corrisponde a quello del verbo to shoot? Ok. Ok? Ci sono quattro opzioni. Opzione A, tirare. Opzione B, scattare. Opzione C, sparare. Opzione D, tutti. Hai cinque secondi. Così diamo anche il tempo all'audience di rifletterci. Non mi ricordo. Vuoi ripetute le... Ok, allora A, tirare. B, scattare. C, sparare. D, tutti. Posso... Devo dirti subito la lettera? No, no, puoi ripensarci. No, perché la A e la C sicuro. Ok. Quindi tutti. Eh, quindi tutti. Yes, sir. La risposta era la D, ragazzi. Tutti. Of course you can shoot the ball. Poi tirare la palla. Quindi anche il significato di tirare. Scattare, you can shoot a photo. You can say shoot a photo instead of taking a photo. You can shoot a photo. You're right. Yes, sir. You can shoot a... somebody. Or something. I don't know. With something. We cannot say that. A weapon. Don't say that. It's an Olympics. It's Olympics. It's Olympics. Yeah, exactly. E poi appunto tutti. Ok? Quindi very good. Ti sei meritata una bruschetta, un morso di bruschetta, un pezzo di bruschetta se lo gradisci? Adesso posso? Certo. Absolutely. Aspetta che fa facci tanto. Mi approfitto anch'io. Questo è il momento della recreation, diciamo. La ricreazione. Così, recreation in inglese è un concetto diverso, no? Recreation è tipo appunto il momento ricreativo più che la ricreazione. La ricreazione sarebbe break. Stiamo ricreando. Noi stiamo ricreando. Creativity. Creativity. Aspetta che qua faccio un'acqua sia, al solito. Giulia, al termine di questa ricreazione, diciamo, siamo ancora in tema cibo, abbiamo mangiato. In siciliano si dice spizzoleato, spizzoleato, un pochino queste bruschette, abbiamo mangiucchiato. Rimaniamo in tema cibo. Abbiamo detto che sei stata a New York, non di certo per imparare l'inglese, ma appunto per mangiare. Tra le altre cose, diciamo proprio solo per mangiare. Tra le altre cose. Tra le altre cose ti sei anche dedicata alla tradizione culinaria, diciamo, del United States, che è molto famosa per questi fast food, no? Si respira nell'aria proprio questo mito del fast food, eppure soltanto una leggenda che si dice, ah, gli americani mangiano junk food, mangiano male. Cioè, è quello il tipo di cibo che hai provato, quello di cui proprio volevi assaporare appunto tutto, o c'è altro? No, io ho mangiato solo junk food. Ok. Lo ammetto. Ma sono andata a New York, tra le altre cose, proprio perché volevo immergermi totalmente nella cultura, che è anche ovviamente legata al cibo. Certo. Quindi, sì, il junk food o comunque il cibo, noi non siamo abituati a quel tipo di alimentazione, è un po' particolare, cioè quando ti approcci per la prima volta dici, ok, va bene, ma... Anche perché le dimensioni del mangiare sono molto grandi, infatti anche le guide, quando decidi di andare a New York, ti dicono, guarda che costa tutto tanto, soprattutto nel mangiare, però guarda che comunque le porzioni sono talmente grandi che le puoi dividere. Spoiler, io non le ho divise. Vabbè, ma perché, insomma, era un'esperienza anche quella. La cosa che mi ha colpito di più è stato in un locale, in un ristorante ad Harlem, e quando pensi a un ristorante non pensi che possa essere come noi possiamo magari intendere un fast food, perché non lo è, cioè è un ristorante normale. Il piatto tipico di questo ristorante ad Harlem era un waffle chicken. E quando io ti dico waffle chicken, tu pensi esattamente al waffle e al pollo. E io ho detto, ma com'è possibile che un waffle che noi mangiamo per colazione possa essere associato al chicken? Allora, siccome è cibo tipico, proviamolo. Ed effettivamente mi è arrivato questo piatto con il pollo, e col pollo intendo praticamente mezzo pollo, sopra a un waffle. E ti partono addirittura il burro e lo sciroppo d'acero. Oh my God! Ma, buah, tra l'altro... Stai sberodolando. Vai, mangia una bruschetta, vai. Forse è meglio. Ti fanno scegliere, no? Se vuoi petto o coscia. E io ho sciolto il tuo petto, perché così dico almeno mangio più carne, magari un po' meglio, no? E vedevo arrivare tutti questi polli in cui si pideva l'ala. E quindi dicevo, it's not mine, it's not mine. Perché c'è l'ala. E a un certo punto mi dicono, guarda che questo è l'unico che manca, questo è il tuo. Come fa a essere il mio? Se c'è l'ala non è petto. No, è mezzo pollo. E ti portano questo waffle sotto. Posso garantire che non è così male come sembra. Ok. Quindi questa è la mia esperienza culinaria. E come ti dicevo, la mia idea era proprio quella di provare tutto il possibile a livello di cibo, perché comunque è un'esperienza anche quella. Infatti me lo sono tatuato. Ok. Mi sono tatuata un apple pie, una slice di apple pie, per ricordo di… questo lo ho fatto a Times Square, tra l'altro, da una tatuatrice italiana in Times Square in un walk-in. Vabbè, queste sono le mie amazing adventures. Dicci che cos'è questo walk-in, che magari l'audience non ha familiarità con questa cosa. Il walk-in è esattamente quello che dice la parola stessa. Cioè tu vai in un negozio di tattoo e chiedi, posso fare un tatuaggio adesso? Adesso si accettano ovviamente i walk-in e in America, New York, ce ne sono tantissimi e tra l'altro aperti fino a tardi, perché ovviamente New York è una città che non dorme mai, quindi sono aperti fino a tardi. Tu puoi entrare in questi negozi, decidere quale tatuaggio farti e te lo fanno quasi sul momento. A me l'hanno fatto praticamente subito e appunto ho questa slice di apple pie, perché sono mangiata molte apple pie e non solo, anche waffle chic. Ok. Figo. Figo il concetto proprio del walk-in tu entri, sai quelle cose spensierate, si entra all'interno di questo tattoo artist shop, let's call it that way, you go into the tattoo artist shop and you get your tattoo, fantastico proprio così senza pensarsi, walk-in mai, mai, dovrebbe. You have to try, go to New York. I'm going to, I'm going far away this, in December for Christmas, in January. actually, not for Christmas, but not to New York, maybe I'll do it there. Yes, you have to, I'll go away for Christmas too, I'll be in London for the first time not just for 24 hours. Ok. Good luck with that. 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 Yeah, and I'll be in love with that. intervistati nei campionati esteri e lo senti che insomma sono dei giocatori che hanno dell'influenza madre diversa dalla lingua inglese, quindi un po' si capisce, l'uso delle parole è un po' particolare. Parli di lessico o parli proprio anche di pronuncia? Soprattutto a livello di pronuncia, come ti dicevo i latinisti ma anche gli italiani ovviamente sì, come la lingua latina, gli spagnoli, gli argentini si sentono, dipende anche dai modi in cui pronunciano determinate parole, però tendenzialmente lo capisci se arriva dalla Spagna, dall'Argentina, quelli che ho fatto fatica a capire, poi vabbè magari sapevo di che nazionalità era quel determinato giocatore e quindi lo sai prima, ma i tedeschi, i giocatori tedeschi, ho avuto la possibilità, te li dico un altro, Nowitzki, di riferire di stare lui, perché lo sai che è tedesco, però parla comunque molto bene. Nonostante, appunto lui è stato negli U.S. Yes, quindi lo parla, anche Gasol è uno che comunque, Pau Gasol, è spagnolo, però è probabilmente, ha stato talmente tanto tempo in America che non dico che ha perso l'accento spagnolo, perché ovviamente non è vero, però è uno di quelli in cui se non riconoscessi la voce faresti comunque meno fatica a capire che è un giocatore spagnolo, per tanti altri non è così. Certo, perché magari non hanno avuto le stesse esperienze, chiaramente parliamo di Nowitzki e Pau Gasol che hanno giocato in NBA e di conseguenza essendo H24 in territorio statunitense avranno preso sicuramente l'influenza. Proviamo a fare un piccolo gioco, tra virgolette, per ora sei stata tu l'intervistata e io quello che intervista. Scambiamo i ruoli, riportiamoli alla, diciamo, fonte originale. Puoi intervistare me come se fossi un giocatore di basket e io farò, ti risponderò come se fossi appunto un giocatore proveniente da non so quale parte del mondo, mi dirai tu da dove vengo. Ok, vai, andata. Ok, quindi puoi entrare benissimo tu anche nel personaggio di intervistatore e io da intervistato. Ok, facciamo finita che io ho finito una partita, d'accordo. What an amazing performance until that moment. How do you describe these last few minutes of the quarter? It was amazing because I tried very hard to score the ball as fast as possible because the time was out. So I had to hurry, I had to hurry, but we did it, we did it. Ok. Su hurry, sono pazita, cosa in spagnolo. Ok, easy peasy lemon squeezy. Ok, secondo round, vediamo. Let's go, 3, 2, 1. Just a little question, an easy question. I really want to know how do you switch your mentality from the first half to the second? Um, I must tell you, when there is a buzzer video to do, I need to get into the game very, very accurately, you know, and when it comes to the responsibility that I have to take with my teammates and everything, I have to score the ball, it's just in my blood. Questo è Wimbaniama, questo è francese. Ok. Se sì, vedi che sono imparato, mi ricordo qualcosa. Se sì, se è Victor Wimbaniama. Wimbaniama, that's it, that's it. Diciamo ancora? L'ultimo, l'ultimo, vai. L'ultimo. Ok, devo entrare nel personaggio. 3, 2, 1, via. It was a really tough game, but I want to know how much was important to get that win tonight in that way. Well, I tried very hard to understand how the other team was playing. I tried my best to get involved with the teammates and all the plays that we were doing, and in the end we kind of managed to bring the win home, so I think we did a pretty good job with what we did and we are satisfied with our performance. Secondo me è russo. Ok, yes sir. Si, si vede, l'esperienza c'è ragazzi, e quindi grazie mille di questo scambio di ruolo. Thank you very much. e passiamo al quiz time adesso. Ora è il tuo turno di rispondere. Yes sir, yes sir. Continuiamo da gioco a gioco. Ultimo quiz della giornata, prima di, purtroppo, lasciarci a questa bellissima puntata. ti chiedo sempre una cosa relativa direttamente o indirettamente alla pallacanestro. Come si dice quando un match è punto a punto, quindi alla pari, in inglese? A. An even game. B. A tie game. C. An equal game. D. A level game. Oddio, ma io direi B. Due. Uno. Yes sir, it's a tie game. Yes sir, it's a tie game. Non so perché in realtà, to tie vuol dire allacciare, ok? Tie è anche la cravatta, quindi magari la cravatta è stretta, di norma. Quindi un match stretto, un match punto a punto, non so perché l'abbiano chiamato tie game. Le altre parole le hanno comunque valide, perché an even game, even vuol dire pari. To be even, essere pari. To be equal, si utilizza tra persone. E poi level vuol dire pari, però il suolo. Quando il suolo è piatto e non ci sono dislivelli, the floor is level. Il floor è alla pari. Quindi yes, per lo sport, a tie game. Exactly. Grazie mille Giulia per esserci venuta a trovare. Grazie a te, grazie a voi. Yes sir. Come sanno tutti gli ascoltatori del Bruxelles Podcast, io lascio sempre uno spazio all'ospite per appunto dirci quello che pensa, per dirci qualsiasi cosa le passi nel tuo caso per la testa. Quindi approfitta di questo spazio finale, sia in inglese che in italiano, per dirci quello che hai da dire. Ok, spero di non dilungarmi, però il mestiere è quello, quindi ce la posso fare. Io, a tante persone, a tanti ragazzi e ragazze che mi dicono, ma come si fa a diventare come te? Beh, alcuni consigli ve li ho dati, o meglio, vi ho detto come ho fatto io. Poi non dovete diventare come me, dovete diventare meglio di me, perché ce ne sono veramente tanti di giornalisti più bravi di me. Seguite vari esempi. Una cosa che vorrei raccomandarvi, quando utilizzate la lingua inglese, di non necessariamente accentuare la pronuncia. Soprattutto se volete fare i giornalisti sportivi, non è necessario quando intervistate un giocatore o un personaggio, insomma, un coach, chi avete in quel momento davanti, il vostro interlocutore, non è necessario accentuare per far capire meglio, perché a volte fa l'effetto contrario, non si capisce. Se dovete chiedere a un giocatore che cosa ne pensa di quella partita, non è necessario fare What do you think of that performance? Basta semplicemente chiedergli, anche italianizzandola What do you think of your performance? Ecco, a me esce male, ma perché... A me esce male perché sono abituata a parlare in questo American accent. Questo non vuol dire che voi dovete fare la stessa identica cosa. Dovete fare quello che per voi... quello che vi fa sentire più confident. Dovete curare maggiormente, a mio parere, il contenuto. Prima il contenuto e poi la forma in cui ponete le domande, in cui vi ponete davanti alla telecamera, in cui soprattutto vi ponete davanti al vostro interlocutore. e tutto questo vi porterà ad avere la migliore intervista possibile e ricordatevi che nel momento in cui la vostra intervista sarà la migliore o la migliore che voi possiate proporre in quel momento, allora è lì che avrete vinto, che avrete fatto il vostro lavoro nel miglior modo possibile. Curate di più il contenuto e meno la forma e poi la forma arriverà. Giulia Cicchinè, Viscera Podcast. Ci vediamo alla prossima puntata.